Ciao a tutti ragazzi, mi stavo facendo un po' di legno senza di voi. E' un po' di legno. 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 E' un po'. E' un po' di legno. 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 Mi sono fatto una taverna per bellezza Così appena arriva il giorno Posso andare alla ricerca Guarda Spada in mano Oh Non ho fatto questa in mano Guarda Ci vediamo al prossimo video Ragazzi Perché non potremo Poi Grazie